E' in gravi condizioni, in rianimazione ma a quanto sembra non in pericolo di vita la ragazza di 29 anni che è stata coltellata nella sala slot Las Vegas in via Veneto a Campobasso, fendenti alla gola, alle mani, alla nuca e dietro il collo quelli che ha subito più e più volte. Ha cercato di difendersi ma Umberto Santoro, 36 anni, l'ha colpita con furia anche dopo che lei ha perso i sensi. Le immagini delle telecamere interne al locale raccontano scene raccapriccianti, quelle che sono state riferite dalla squadra mobile volante intervenuta subito sul posto. Non ho mai visto tanto sangue, nemmeno nei casi più efferati, ha detto un poliziotto, parole confermate anche dagli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi. La ragazza ieri sera, poco dopo le 22, era sola nella sala giochi dove lavora, era alla cassa, dentro c'era anche Umberto Santoro, disoccupato di buona famiglia che le era subito sembrato strano. Aveva consumato qualcosa, qualche bicchiere. La giovane aveva chiamato il suo fidanzato affinché la raggiungesse per stare più tranquilla nel frattempo. Però si è consumata la rapina e il tentato omicidio. Lui all'improvviso ha tirato fuori il coltello a scatto e minacciando la ragazza ha aperto la cassa e ha raffato 600 euro. Lei non ha reagito, ha fatto qualche passo indietro, avrebbe rifiutato qualche avance, pare. Poi si è scatenata la furia dell'uomo, inspiegabile che l'ha colpita alla gola, alle mani, mentre la ragazza tentava di difendersi, di salvarsi la vita, colpi su colpi. Lei si è coperta il viso per proteggersi, ma lui è infierito sulla testa e la nuca. L'ha colpita ancora, anche quando era a terra, priva di sensi. Poi se n'è andato. Nel frattempo è arrivato il fidanzato della 29enne e l'ha trovata in un lago di sangue, semicosciente, a fianco. Il coltello ha chiamato 118 e polizia è stata portata in ospedale, una circostanza che le ha salvato la vita. È stata operata ed è anche riuscita a raccontare l'accaduto agli agenti della mobile. Appena uscito dalla sala slot, Umberto Santoro si è lavato via il sangue e è andato in una pizzeria. Ha ordinato e mangiato una pizza. I poliziotti hanno impiegato poco per individuarlo e arrestarlo sul corso. Aveva un tasso alcolico superiore al consentito. Ora è in carcere. Il suo avvocato è Arturo Messere. Il PM e la Lombardi le accuse, tentato omicidio, rapina aggravata e porto abusivo di coltello.